Prossima, un'ultima notizia. Malpensa News dice caos nei cieli e negli aeroporti d'Europa. Ecco cosa sta succedendo. La mancanza di personale, soprattutto in USA e in Europa, unita alla ripresa alla domanda di viaggio e a una errata programmazione, ha innescato un effetto domino con migliaia di cancellazioni. E questo luglio è ancora complicato, con diversi scioperi previsti. Il mondo crede che sta progredendo. Treni di lusso, aeree di lusso, case di lusso, banche di lusso, anticristo di lusso. Il mondo progredisce. Ascolti politici, noi programmiamo, noi faremo, noi diremo, noi costruiremo, noi risolveremo, emo, 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 tutto al futuro. Ma cosa avete combinato? Non parlare del passato, perdiamo tempo. Ma è stato detto, chi non studia il passato, chi non studia gli errori del passato, è condannato a ripeterli. Il mondo è un branco di ciechi che mi ricorda il tempio di Noè, come ha detto Gesù. Il mondo progredisce, ma verso il male. Ho detto un articolo ieri che stanno parlando, che si stanno preparando a mandare l'uomo su Marte. Ma cosa volete andare a martirizzare anche Marte? Ma lasciatola in pace Marte. Non c'è abbastanza monnezza qui dove, nelle vostre case dove abitate, volete asportarla anche là. Cosa volete andare? Prossimo, e prossimo la Cina vuole portare i missili su Marte. E l'America li porterà solo a Luna. E la Russia in Alaska. Il mondo è impazzito, ma non lo sa. Cioè, fin quando uno è pazzo, però accetta le cure, c'è speranza. Ma un pazzo che non sa di essere pazzo. Guarda, se tu leggete questi articoli, ce li metti la mano nei capelli. Praticamente nel mondo non sta funzionando niente. Va bene? Trasporti aerei, ferroviari, maritimi, le fabbriche che non producono, i salari ingiusti, la politica oppressiva, le banche sanguisughe, guerre. E insomma, niente funziona come dovrebbe. Altro che progresso. Che progresso? Che evoluzione? Quell'evoluzione sono le armi, le bombe atomiche, l'egoismo, l'ingordigia. Guarda, la soluzione degli illuministi, illuministi del nuovo ordine mondiale, come sappiamo, la loro soluzione per risolvere i problemi è la depopolazione. Alla fine arriveranno quattro multinazionali, scontenti loro, contenti tutti. Quattro multinazionali con un po' di schiavi. Infatti ho messo due pietre lì, pubblicate sulla radio. Della Georgia Guystone, sì, l'ho pubblicata, sì. Sulla radio abbiamo messo lì alcune citazioni delle due pietre di Guystone della Georgia. Guarda, una scritta, la potete vedere sulla radio lì, c'è scritto maintain, legge in inglese. Mantenete l'umanità sotto il numero di 500 milioni, in perpetual balance con la natura. Quindi rispettare la natura, attenzione alla natura, non c'è nessun problema uccidere gli uomini, adorate la natura. E poi c'è un'altra pietra che dice, be not a cancer. Be not a cancer on the earth, leave room for nature. Ripeto due volte, leave room for nature. Leave room for nature, sì, due volte lo dice. Quindi dice questa traduzione, un altro comandamento, non siate un cancro sulla terra, lasciate spazio per la natura. Lasciate spazio per la natura, ripeto due volte. Quindi una volta c'erano i druidi, cioè questa religione si chiamava i druidi, adoravano gli alberi, va bene? E loro adoravano la natura, la madre terra, il dio sole, la paccia mamma che adesso sta prendendo controllo in Vaticano e così via. Cioè se tu non rispetti la natura sei un cancro. Pateria ti stanno dicendo, gli uomini sono cancri e dobbiamo rispettare la natura. E questo vogliono la natura, vogliono gli alberi, le erbe, gli uomini li uccidiamo. Quanti? Precisamente 7 miliardi e mezzo. Ai, 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 è incredibile. E allora, guarda, la soluzione di questa gente è depopolare. Lasciare 500 milioni di persone che comunque tra le pandemie che hanno inventato e creato di proposito. E le siringate e i morti per siringata. E i morti per fame, malattie derivate, derivate da cosa? Malattie derivate dalle coltivazioni moderne di agricoltura che viene avvelenata regolarmente da pesticidi, antiparassitari, che muoiono le api, muore l'equilibrio della natura. Stanno distruggendo il mondo e stanno segando il ramo dell'albero dove sono seduti. Avete sentito tutti, avrete sentito che c'è stata quella grandissima carestia in Cina, al tempo di Mao Tse Tung. C'è stata una carestia grandissima. Sono morti non si sa quanti milioni. E sai com'è cominciata? No. E' cominciata per un uccellino, un passero, un passerotto. E come? A bird. E' successo che Mao Tse Tung e i compagni hanno scoperto che i passeri mangiavano in agricoltura. Ogni anno un passero mangiava circa mezzo chilo, un chilo di cereali, quindi frumento o quello che c'era. E Mao Tse Tung dice, ehi, non va bene. Questa storia, è vero, è vero questo. Non lo so, lo sto abbellendo un po' con battute di baselette, ma la storia è vera. Dice 30 milioni di cinesi sono morti. Quanti? 30 milioni. 30 milioni, ragazzi. E com'è successo questo? E' successo che, è successo per un uccellino. Mao Tse Tung ha detto, hanno scoperto che gli uccellini, ogni pasto mangiava mezzo chilo, un chilo, qua sette, otto etti circa, mezzo chilo, otto etti, di cereali per i campi. Dice, questo non può essere. Gli uccellini, adesso queste sono battute che faccio io, le mie battute sono mie. E allora Mao dice, ma come, non sono molto comunisti questi passeri, questi qua dovrebbero portare il cibo a collettivo, così che noi li distribuiamo, nel modo giusto. Non hanno letto Carlo Marx, hanno scoperto che gli uccellini non leggevano. E allora bisogna eliminarli. E questa è la verità, adesso, questa non è una battuta. Allora, dice, eliminiamo i pastri perché si mangiano mezzo chilo di cereali all'anno. E allora hanno fatto una campagna, tutti i cinesi, centinaia di mili cinesi, a uccidere i passerotti, con i tirassassi, con questo, quell'altro. Insomma, hanno quasi eliminato tutti i passeri dalla Cina. Tutti felici e contenti, i compagni comunisti. Però che è successo? Storia vera. Dopo un po', sono cominciato a apparire le cavallette, i locusti, sono cominciato a apparire un sacco di insetti, di ogni tipo, che hanno cominciato a distruggere i raccolti completamente da causare una carestia in Cina. Perché il passero, i passerotti, tenevano l'equilibrio della natura, eliminavano le larve, eliminavano questo, quell'altro, le locuste, eccetera, tante altre, che mantenevano l'equilibrio della natura, che Dio ha creato. Gli insetti hanno causato la carestia? Gli insetti che non erano più controllati da passerotti, va bene, hanno causato una carestia che c'erano intere, si divoravano intere vegetazioni, i campi se li divoravano per completo. Wow, amazing. E allora si sono spaventati, storia vera, hanno spaventati, terrorizzati, smettete di uccidere gli uccelli. Hanno scoperto che gli uccelli che tenevano sotto controllo le pesti, va bene, come oggi ci hanno gli antiparassitari, i pesticidi, no? Sì. Ecco, Dio ha messo questi uccellini. Per controllare. E allora, questi antiparassitari sono, adesso avvelenano il cibo, infatti, la mela, pelala, devi pelare la mela perché ci spruzzano il veleno antiparassitario. Tutto ciò che non peli, l'insalata, il sedano, eccetera, è molto pericoloso. A meno che non te lo fai crescere tu. Allora, sappiamo che le carestie sono state profetizzate in Matteo 24 e sappiamo che milioni moriranno di fame. Gesù l'ha profetizzato. Però sarà beato chi si sarà reso autosufficiente. Per tempo, con un pezzo di terra, per il suo orto, potrà vivere in zone lontane dal crimine, dalla città, il crimine che dilagherà, che le città sono, diciamo, sono come un cancro che produce cancerogene. La città è un cancro pieno di gente senza Dio, senza Cristo, senza Bibbia, senza comandamenti. Vabbè, ti uccideranno per mezzo chilo di pane. E i cristiani saranno le vittime, perché i cristiani non vanno in giro a ammazzare nessuno. Ma ci sarà esplosione di violenza in tutte le parti. I convogli del cibo dovranno essere ascoltati dalla polizia, che attaccheranno, gli autotreni non arriveranno col cibo ai supermercati, attaccheranno per strada. E allora dovete prepararvi in zone lontane dalle città, lontane dal crimine. E allora in quei luoghi potrete fare a meno del sistema anticristo, dalle banche. Potete fare a meno dei politici, magari potrete fare a meno dei rifornimenti che le città dipendono. Alle città verrà a mancare di tutto. Non sognate che il supermercato sarà come Gesù che ha moltiplicato il pane e i pesci e finché mangiavano si moltiplicava. Il supermercato, prima emergenza, mezza giornata è vuoto. L'acqua è sparita, il pane è sparito, eccetera. E se l'acqua è contaminata e che uno di questi pazzi a piedi libero butta una bomba sporca nella riserva di acqua, una piccola bomba chimica e non puoi bere più acqua, cosa bevi? Andrai a bere dal cesso? Cosa farai? Molte città moriranno semplicemente per questo. Prova a uscire, dove vai? Dove chiamano due o tre milioni di persone che scappolano da Milano? Dove vanno? Andiamo sui monti, sì? In ciabate, cos'è che fai sui monti? Quindi stavamo vedendo l'egoismo delle persone in quel film, sul terremoto in San Francisco, in California. Gli egoisti che non si aiutavano, pensavano solo per sé, abbandonavano i migliori amici, un giro con le pistole a rapinare i negozi dove c'era il cibo. Quindi vi esortiamo di nuovo, fratelli, a pregare. So che ve l'ho già detto, ve lo ripeto. Pregate per il posto giusto, preparatevi per quello che sta avvenendo. Va bene? E anche precisiamo ai fratelli che vengono in Sud America che noi non possiamo promettere incontri a meno che non ci sia messi d'accordo in anticipo prima della vostra partenza. Quindi se qualcuno, per esempio, io qua e dice e ci telefona, caro fratello Giuseppe Angelo, venite a incontrarmi, vi diciamo subito, prima che ci telefonate non sarà possibile. perché la nostra zona di operare è grande, ci spostiamo di qua, ci spostiamo di là, non siamo in grado di andare dovunque voi siete. E anche se siete vicini, non è che dire che siamo organizzati a staccare la spina e venire. Se lo sappiamo per tempo, ci organizziamo, possiamo posticipare cose, eccetera. Ma così tutto un tratto non possiamo. Quindi a volte incontriamo dei fratelli, sì, ma solamente quando ci mettiamo d'accordo con mesi in anticipo, va bene? Quindi è importante che ci annunciate in anticipo e ci mettiamo d'accordo. Dobbiamo dirvi sia possibile, non è possibile, però solo così sorpresa, venite, altrimenti mi offendo, così non funziona. Sono state persone che sono arrivate dalle nazioni vicino a noi, altre nazioni, che non riuscirono a capire perché noi non andavamo a aiutarli, a sbrogliare le cose, a trovargli una casa, a traduzione. Come facciamo? No, non siamo in grado. Sarebbe bello, bellissimo, ma non possiamo. Sì. Va bene. Come se io venissi a casa tua in Italia, dico buongiorno, sono qua, e ecco, prenditi cura di me. Forse puoi, forse non puoi. Lasci tutto, sono qua. E forse c'hai dei bambini, forse c'hai un lavoro, che non puoi dire, ok, sto qui a prendermi cura di te. Giusto. Fratelli. Quindi l'unica soluzione è mettersi d'accordo prima che partite. Però non è che sarà sempre sì automatico. A volte forse sì, forse vedremo, forse no. Per cortesia nessuno si offenda. Amen. Va bene che, perché... Insomma, io incoraggio a tutti i fratelli che ascoltano, esercitatevi nella fede. di poter guarire se vi ammalate. Non confidate nelle ospedali e farmacie, perché o non avrete soldi, o non ci saranno dottori, o vi riempiranno di siringate. Comunque, io non sto dicendo che dovete fare. Questa si applica a me, quello che farei io. Poi voi, non sono autorizzato in internet a dire cosa dovete fare. E non lo voglio dire. Quindi, ognuno decide per sé, io parlo sempre a nome mio, farei io, voi decidete voi. Però, quando uno si ammala, biblicamente parlando, uno deve imparare a guarire per fede. Fede in Gesù. E non dipendere da dentisti, ospedali, chirurghi, e così via. Perché se sei in situazione, che ne so, se sei isolato in un posto, l'ospedale più vicino è a 100 km, cioè, devi imparare a guarire per fede. E quando impari? Quando sei ammalato? Quando impari a fare la guerra? Quando scoppia? No, prima. Quando impari a nuotare? Quando la nave affonda? Prima, prima. Quando vai a prepararti i paracadute? Quando ti compri i paracadute? Quando l'aero sta cadendo? No. Quando vai a procurarti un salvagente? Quando la nave è affondata? No, troppo tardi. Quando imparerai ad amare tua moglie nel modo giusto? Dopo il divorzio? No. C'è un fratello che ci ha scritto dall'America che ha detto che è venuto lo sceriffo in casa e mi ha detto di uscire, la casa appartiene a mia moglie, perché lui si è comportato male, è stato violento, ha preso droga, e mi ha detto lo sceriffo e gli ha detto che questa casa non è più tua, appartiene a tua moglie e tre figli, tu non sei autorizzato ad avvicinarti alla casa. e lui ha detto adesso posso vedere mia moglie, ogni tanto mi mancano i figli, devo andare di nascosta a vedere di fuori mentre giocano, non posso farmi vedere perché mia moglie mi denuncia. È stato violento, ha preso droga, è stato un marito indegno e adesso piange a lacrime di cocodrillo. Quanti anni che gli abbiamo detto di ascoltare, Angela? È una persona che da anni gli stiamo dicendo, avvertendo, perché li conosciamo da un po' di tempo, non è un grande fratello, perché non sappiamo neanche se ha Gesù nel cuore e lo abbiamo detto a lui, per favore controlla la tua salvezza, perché dai frutti non si vede se sei salvo o no. Lui si chiama fratello, si ritiene fratello, però gli ho detto guarda controlla la tua salvezza, perché sì, tu ti presenti da fratello, come se fosse parte della nostra fratellanza, ma non lo sai perché non hai i frutti di cristiano. No, non lo è. E quindi lui adesso sta scrivendo quasi ogni giorno, chiedendo preghiera, è disperato, ha detto it was no fun when the sheriff came. Dice non era, non è stato piacevole quando è venuto lo sceriffo a mandarmi fuori da casa mia. Sì, e sta facendo di tutto per potersi riconciliare con la moglie, però lei ha un ordine protettivo dal giudice per lei e i figli contro di lui. Sì, adesso vuole riconciliarsi, sì. Sì, è così. Però prima? Prima di questo ci scriveva messaggi? Il giudice gli ha assegnato la casa, i figli, e adesso lui la deve mantenere. Prima di questo? Adesso è un po' più disperato e pentito, però la settimana scorsa scriveva messaggi del tipo la mia moglie non mi obbedisce. non vuole sottomettersi. Non capisce che io sono il capo della casa. I am the boss of this family. I am pretty smart and I know when I'm right. Dice mia moglie, mia moglie, ha detto anche, ha chiesto di pregare. Pregate che mia moglie impari a obbedirmi, a sottomettersi e capire che io sono the boss of the house, il capo della casa. E che altro ha detto? I am pretty smart, I know when I'm right. And she doesn't listen. Dice in questo caso ho ragione io. io sono abbastanza intelligente, so quando ho ragione. Stavolta lei ha torto. And the Bible says women submit to your husband. E la Bibbia dice, donne, moglie, sottomettetevi i mariti. E questa cosa glielo dice da anni, da nove anni che sono sposati. Lui gli bombarda la moglie in continuazione. Sì, in continuazione, sì. Cioè un marito che ragiona così non ha capito cos'è una moglie. Non ha capito neanche la Bibbia. Non ha capito. Una moglie è una persona che deve essere amata. Nella coppia la moglie è la parte delicata, è la parte più debole. Il marito deve amare, la moglie deve amare il marito, ma il marito deve amare la moglie il doppio. Perché lui l'ha provocata così, e lei ha perso il controllo e gli ha dato uno schiaffo. E lui l'ha picchiata. Ma si è impazzito, scusa. Se la moglie ti dà uno schiaffo, tu lo prendi e stai zitto. Fratelli maschi, maschilisti, ascoltate bene. Se la moglie vi dà uno schiaffo, lo prendete in silenzio. Questo è il carattere del vero uomo. Il vero uomo, grande, grosso e muscoloso, prende lo schiaffo dalla moglie e sta zitto. Magari parla, ma non inveisce, non la prova. Perché per provocare una moglie che sa che è più debole, ha dato uno schiaffo, veramente gliel'hai tolto dalle mani. Va bene? Va bene. Questo che voglio dire ai fratelli maschilisti, se ne abbiamo. Questo non vuol dire che tutte le moglie sono santerelline, ce ne sono di moglie adulte, ci sono di moglie che meritano veramente essere divorziate per la loro comunicazione. D'accordo. Va bene. Ma attenzione, in generale, in generale, noi uomini dobbiamo imparare come si trattano le donne. Va bene. Le donne è un dono di Dio, sono delicate, sono sensibili, piangono. E noi, branco di cafoni, a volte, cerchiamo di essere più gentili, più sensibili, piangere con loro, mettere una mano sulla spalla e carezzarla. Questo è la chiamata del marito. Avete capito? Quando la moglie perde il controllo, lasciatela fare. Dategli un po' d'amore e andatevene via. D'accordo? Lei ha ragione se non altro perché è più debole. Naturalmente, ci sono delle moglie possedute, come la barzelletta del tipo che è andata davanti al giudice e il giudice gli chiede perché ha abbandonato la moglie? Perché ha disertato la moglie? Ed è lui piccolino davanti al giudice a faccia di vittima, a fianco c'era la moglie che l'accusava, più grandi di lui sembrava un granatiere e gli dice signor giudice io non sono un desertore, sono un rifugiato. No, ma è vero, ci sono anche delle moglie che con le femministe di oggi Dio ci liberi. Beh, certo, certo, da femministe e maschilisti si possono dare la mano e andare a fare l'autostop tutte e due. Signore Gesù, Angela, perché andiamo? Sì, allora dicevi ai fratelli di prepararsi. scrivete, mandatemi qualche messaggio a voi fratelli maschi e voi sapete chi siete che avete bisogno di questo messaggio, forza. Dicevi, vedendo tutte queste crisi nel mondo dove niente sta funzionando praticamente, i fratelli è bene prepararsi e lo abbiamo detto già da anni ma ancora lo possono fare? Un po' tardi però lo possono ancora fare. Ma ti ricordi, signore, molti mesi fa nel mezzo della pandemia mi ha dato una profezia e il messaggio era io signora aprirò delle finestrelle. Queste sono le finestrelle, non sono i lettini per dormire, svegliamoci. È tempo di smammare, sloggiare, partire, andare dove? Dove Dio vi guida? Magari fuori dalla città 10 km, non lo so, forse cambiare continente, forse città, forse paese, non lo so. Forse andare, dove sono andate con le due sorelle a guardare le stelle sulle colline. Su un prato. Visto che è ispirante. Le distese sul prato a guardare le stelle e l'odare al Signore. Bellissimo. Ameno. Gloria a Dio. Insomma, io voglio incoraggiare tutti i fratelli che ascoltano esercitassene alla fede di poter guarire solo con la fede in Gesù e non dipendere da ospedali. È ottimo organizzarsi in campagna. Fratelli, ascoltate, con animali semplici, galline, un orto. Le galline sono importantissime perché potete sopravvivere solo con le uova. Ho ascoltato un dottore naturologo, ho sentito il suo dottore di medicina naturale che diceva si può vivere solo con uova. Non è vero che ha colesterolo, eccetera. Non è vero. L'uovo è uno degli alimenti più sani che esistono. Va bene? C'è gente che ha dimagrito mangiando solo uova. Ha perso una decina di chili solo mangiando una dieta di uova. Cosa voglio dire con questo? Vi incoraggio a coltivare, a crescere galline. Va bene? Però non spedete troppo soldi, cibi speciali, i cibi più economici che trovate. Va bene? Perché le uova che comprate nel supermercato sono galline che vivono in una gabbia e si ammalano. perché non muoiono e non si ammalano e li riempiono di antibiotici che li mangiate voi con le uova. Ma se le galline le fate crescere voi, se una gallina è malata che muoia, cosa stai lì a mettere l'antibiotico? Pregate che non muore. Insomma, organizzatevi, fratelli. Diventerà sempre di più una pratica ciò che si chiama il baratto. Quindi barattare è quello che producete in cambio di ciò che vi serve. Quindi qualcosa dovete produrre per barattare. Fin quando potete barattare mangerete qualcosa. Quindi in zone legnose, sono buone le zone legnose dove puoi cucinare con la legna, riscaldare la casa e non il gas. Il gas, Putin lo sta tagliando il gas se per caso non seguite la notizia. Adesso lo riaprirà, arriverà, ma vedi il gas dipende dall'anticristo. gas. Quindi ottene le stufie a legna che allo stesso tempo riscaldano la casa. D'accordo? Quindi queste emergenze arriveranno, sono profetizzate e saremo noi cristiani veri che dobbiamo prepararci. Aspetta a noi. Non state qui a sperare che Conte, Letta e Matteo Renzi. Non sperate. sennò chi spera in quelli lì sarà disperato. Va bene? Non sperate che quelli non possono neanche salvare se stessi, figurate voi. Tutti, sono troppo intenti, non li disturbate. Stanno riempiendo le tasche di soldi e lasciatele tranquilli che intaschino e che se ne vadano. allora cercate anche di tenere cioè il modo che voi vi vede per il Signore cercate di mantenerlo in assoluta privacy. Non andate a suonare le trombe io per Gesù così solo Bibbia solo guardate che vi perseguitano e chiede state zitti. C'è un momento di evangelizzare e c'è un momento di stare zitti. Io qui dove viviamo noi qua siamo molto tranquilli sì siamo cristiani e dopo tutto può essere anche religioso no? Siamo cristiani ma non ma non 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 suoniamo le trombe perché poi trovi due o tre capri e ti perseguitano quando hai dato le perle ai porci sei sei nei guai quindi c'è il momento di parlare è il momento di stare zitto usare saggezza anche Gesù ha detto non dite a nessuno che io sono il Cristo l'ha detto diverse volte e allora usare il saggezza con quelle che vi sono contrari per evitare persecuzioni perché vengono anche quelle secondo Timoteo 3.12 ce l'hai lì nella lista? Sì ce l'ho del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati secondo Timoteo 3.12 Giovanni 16.33 vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me nel mondo avrete tribolazione ma fatevi coraggio io ho vinto il mondo Giovanni 16.33 a T8.1.4 e Saulo approvava la sua uccisione vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria salvo gli apostoli ecco vengono persecuzioni brutte fratelli vedete in Nigeria sono andati qui in Mita hanno sparato e ucciso 80 fratelli che pregavano una chiesa in un'altra chiesa 77 bambini hanno portato via di una setta un gruppo che aspettava il rapimento fratelli non appoggiate sulle chiese sgangherate che non capiscono niente in certe chiese sono poche le chiese oggi che hanno capito che succede avanti verso 2 uomini pigli seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui ecco viene persecuzione come qui qui vediamo il materiale di Stefano del capitolo precedente Saulo intanto devastava la chiesa entrando di casa in casa e trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione quindi qui Saulo rappresenta la persecuzione che viene chi è Saulo? un religioso per esempio questo signore paciamamma di Roma è andato un cardinale dalla Cina per incontrarlo parlargli e dire metta una buona parola che in Cina le autorità non ci perseguitano e questo posseduto e ultra posseduto della paciamama non l'ha neanche ricevuto questo povero cardinale Zen mi pare che si chiama cardinale Zen in cinese e se ne è tornato in Cina e i cinesi l'hanno arrestato messo in prigione ma cosa gli farà il signore a questo paciamamo stravolto tomba imbiancata piena di ossa di morti il poveraccio è tornato in Cina e adesso è in prigione ma lui sarà tolto dalla prigione io lo toglierò dalla prigione dice Gesù io lo toglierò e verrà a me e riceverà la corona di gloria il suo posto sarà preso in una prigione eterna una prigione spirituale da quelli indegni che nel mio nome commettono sozzerie verso 4 atti 8 allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola atti 8 1 a 4 vengono i tempi quando saremo perseguitati e ovunque andremo porteremo il messaggio della parola ma questi tempi sono già giunti che nessun fratello scappi dall'occidente solo per salvare la pellaccia che tutti ovunque andate tutti preparatevi ad aiutare i fratelli possono arrivare i fratelli che hanno bisogno di un posto per dormire hanno bisogno un po' di cibo dovrete riceverli se siete fratelli va bene noi da quando abbiamo dedicato la nostra vita al Signore ed aiutare i fratelli per quello che possiamo nello spirito innanzitutto il Signore il Signore ci ha benedetto ha benedetto la nostra unità la nostra missione anzi si è allargata in tutto il mondo dovete farlo anche voi ognuno di cui ognuno della nostra comunità ognuno della nostra comunità deve aprirsi essere pronta che quando il Signore dice ricevete questi fratelli e aiutateli un giorno due giorni tre giorni quattro giorni non è che deve arrivare un approfittarsi e quando i fratelli io ho già spiegato in passato quando i fratelli vengono nella vostra casa e vengono lì e bisogna di aiuto cercate di attenzione che non tutti non ho tutto oro quello che luccica quindi non mettete nei problemi legali per esempio se tu hai una casa con un pezzo di terra non ti coinvolge legalmente finanziariamente con fratelli nuovi che sono tutti sorrisi aiutare sì ma aiutare però non coinvolgervi soldi documenti associazioni cose legali perché poi ogni domani devi separarti come fai vediamo in Genesi capitolo 13 che Abramo dovete separarsi da Lot Genesi capitolo 13 senti Lot vai adesso vai a sinistra qui ci separiamo che erano ricchi e le ricchezze sempre diciamo attirano i diavoli solo che Abramo sapeva gestire le sue Lot no quindi se voi aiutate dei fratelli ed è giusto che sia così e verrà il tempo che sarà necessario va bene però non coinvolgetevi al punto che questi vengono a comandare a casa vostra perché ci è successo a noi così va bene ma aiutate dei fratelli e dopo un po' gli ho dato un dito e voleva nel braccio altri fratelli invece che abbiamo conosciuto sono stati dolcissimi altri se salve chi può va bene abbiamo dovuto separarci addio addio ciao va bene allora vi do questo suggerimento quindi ovunque andate anche nel terzo mondo il signore preparerà delle cose per esempio dei posti dove i fratelli potranno ricevere un po' di oasi un po' di riparo un po' di rifugio e sempre sempre lavorando sempre va bene ma non 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 complicatevi le cose con i soldi documenti case no 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 se vuoi aiutare il fratello quello se ne deve andare a qualunque momento e quando aiutate aiutate delle persone mettete sempre dire posso aiutate per la settimana posso aiutare può rimanere qui una settimana può rimanere qui un mese poi fra un mese vediamo se ancora tu vuoi rimanere e naturalmente da ambo le parti quindi non dire vieni ciao è difficile far uscire far uscire le persone di casa tua non vogliono uscire allora devi fare devi fare un contratto e dire va bene però una settimana o un mese e ogni settimana ogni mese rinnovare per un'altra settimana un altro mese di maniera che quando il vento non è più bello dici ok è stato bello stare insieme beh ciao vedete allora tutto a posto non coinvolgete con documenti associazioni comprare cose insieme mai e poi mai comprare cose insieme aiuta il fratello a casa tua dagli un po' del tuo cibo se necessario però devi lavorare vacanzieri non ne prendete vacanzieri turisti no a volte dei fratelli ci scrivevano veniamo lì staremo tre mesi in vacanza e noi vacanze non ne facciamo non so se possiamo neanche incontrarvi va bene fratelli allora in conclusione concludiamo questo messaggio perché un messaggio sobrio questi avvertimenti naturalmente so già che non saranno ricevuti dai credenti secolarizzati che di norma fa parte della folla del mondo che ci condannano e ti condannano e condannano chiunque prende le scritture troppo letteralmente ma noi fratelli non dobbiamo preoccuparci andiamo avanti e concludiamo con Giovanni Giovanni 15 18 a 21 Angelo lo leggeresti? Giovanni 15 18 a 21 se il mondo vi odia sapete bene che prima di voi ha odiato me quindi fratelli non sentitevi strani perché quelli intorno vi odiano o vi chiamano per pazzi lo hanno fatto con Gesù 19 se foste del mondo il mondo amerebbe quello che è suo poiché non siete del mondo ma io ho scelto voi in mezzo al mondo perciò il mondo vi odia quindi il mondo ci odia perché siamo cristiani perché seguiamo Gesù cioè c'è stato il parente che mi ha detto sì puoi seguire Gesù ma alla domenica in chiesa come fanno tutti come fanno tutti io non lo voglio fare non mi interessa come fanno tutti io voglio fare come ha fatto Gesù in modo radicale estremista 100% quindi criticabile e criticata da tutti quelli che Gesù non lo seguivano quelli della domenica mattina scaldapanche i nominali ricordatevi della parola che vi ho detta il servo non è più grande del suo signore se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi se hanno osservato la mia parola osserveranno anche la vostra nessuna sorpresa se siete perseguitati è scritto è nel contratto appena comincia a seguire il signore sarai perseguitato mettilo subito mettilo subito per scontato ma tutto questo ve lo faranno la mia moglie era lì gli cucinava dormivano insieme tutto a posto e lui è egoista quante volte Angelo gli abbiamo detto che stava sbagliando adesso dopo tre figli lei si è stancata e allora adesso piange lacrime di coccodrillo adesso stai attento finché mi stanco io a posto c'è un problema ma se si stanca il signore le sue scolacciate possono durare anni e anche per l'eternità ce l'è ebrei 11-13 sì tutti costoro confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra ebrei 11-13 va bene amè grazie Gesù fratelli siamo ricordiamoci che siamo forestieri pellegrini su questa terra non guardate troppo verso l'Ucraina e la Russia l'America fratelli guardate a Gesù andate a evangelizzare guardate a casa vostra trattate bene vostra moglie i vostri figli piangete con loro mogli siate anche voi degni che avete un marito e c'è tante mogli che lo vogliono e non ce l'hanno coniugi per cortesia mettetevi in cinocchio perdonatevi editevi e perdonateci ogni giorno c'è qualcosa che devi chiedere scusa ogni santo giorno è vero è vero attenzione le scuole voi le mandate che vi le rimandano indietro pieni di cattivi spiriti i bambini sono minorenni avete tutto il diritto di sfostarvi dove volete e devono seguirvi e dopo che vi seguono magari non lenti più che volenti non lenti però dopo un po' capisci come i miei figli qua a volte qui noi abbiamo il kefir che lo prendiamo tutti i giorni e dice il kefir no preferisco prendilo perché te lo dico io poi glielo spiego tutti i benefici del kefir va bene molto meglio dello yogurt e adesso stanno comprendendo e dice guarda se proprio vuoi metti un pochettino di miele se proprio ok insomma fratelli Amen in nome di Gesù Cristo grazie c'è tutto il cuore Angela c'è altro? no possiamo fermarci qui per oggi nel tuo programma c'è altro per domani ci fermiamo allora si ci fermiamo prego te prego io prego io grazie Signore Gesù grazie Signore Signore ti ringrazio per ogni cosa che tu ci hai rivelato oggi ogni cosa che tu hai voluto trasmetterci per la nostra crescita per la nostra maturazione aiutarci Signore a veramente mettere saggezza nel nostro cuore e apprezzarla e crescere in questa saggezza in questo discernimento che tu ci dai per capire gli eventi del mondo e come prepararci ad affrontare quello che sta avvenendo Signore Gesù benedici ogni fratello e sorella in ascolto benedicili con la tua presenza con il tuo abbraccio di amore con la tua benedizione su di loro in ogni aspetto delle loro vite sulla salute guarigione completa liberazione da ogni male protezione completa che nessun male si avvicini a loro unità in famiglia amore nel cuore e spirito santo su di loro per avere pazienza e saggezza in ogni situazione Signore benedicili perché ti amano ti cercano benedicili Signore con la tua presenza ogni secondo nel nome di Gesù ti ringrazio per questi meravigliosi fratelli che ci hai donato sono parte di te sono come te e li amiamo tanto grazie Gesù siamo incoraggiati fratelli perché avete Gesù siamo incoraggiati perché stiamo andando in cielo gioiamo perché il mondo molto troppo del mondo andrà all'inferno ma noi stiamo andando in cielo non perché lo meritiamo ma perché Gesù Cristo ha avuto misericordia di noi perché il Padre lo ha mandato gioiamo rallegriamoci benedici Signore anima mia tutto ciò che è in me benedici il suo santo nome egli è colui che perdona le tue iniquità e guarisce le tue infermità Signore ti prego anche che tu ci aiuti tutti aiuti i fratelli aiutaci Signore aiutaci a crescere nella fede Signore così che non dobbiamo dipendere ad ospedali dottori Signore ma dipendere da Te Signore aiutaci a farlo adesso aiutaci a crescere adesso Signore aiutaci a non cercare paracadute quando l'ero sta cascando cercare salvagente che non c'è quando la nave sta affondando a cercare la fede di guarire da malattie quando tutto va male aiutaci a farlo quando tutto va bene Signore a cercarti quando virgolette non ne abbiamo bisogno chiuse virgolette Signore aiutaci adesso di corsa subito a donarci a Te a crescere in Te nel mondo avrete afflizione ma fatevi coraggio io ho vinto il mondo Dio vi benedico fratelli Amen Amen Noi offriamo questa lode a te elevando gli occhi verso il re e vedremo che il cielo si aprirà e ci lascerà entrare cammineremo sulle strade d'oro entreremo nelle porte regge e con gli angeli festano il fare e chi ci perderà e chi ci ferverà e chi ci ferverà Signore chi sarà come te nel giorno in cui tornerai e guardiamo con fede il gran giorno verrà Signore chi sarà come te nel giorno in cui tornerai e guardiamo con fede il gran giorno verrà ed alziamo le bandiere al tuo nome sulle nostre insegna il tuo valore con un cuore solo ti acclamiamo re e vinceremo con te Signore chi sarà come te nel giorno in cui tornerai e guardiamo con fede il gran giorno verrà Signore chi sarà come te nel giorno in cui tornerai e guardiamo con fede il gran giorno verrà Signore che sarà come te nel giorno in cui tornerai e guardiamo con fede il gran giorno verrà Signore chi sarà come te nel giorno in cui tornerai tornerai e guardiamo con fede il gran giorno il gran giorno verrà il gran giorno verrà il gran giorno verrà